dodicesima domenica del tempo ordinario il vangelo di marco al capitolo quarto termina con la narrazione della tempesta sedata dell'avventura che viene fatta dai discepoli in quella notte una notte drammatica tragica ecco partiamo dalla fine dall'ultima frase che gesù dice ai discepoli perché avete paura non avete ancora fede ecco tutto ciò che hanno vissuto è un'esperienza che ha una finalità portare alla fede i discepoli ecco capiamo che questa non è la storiella di un miracolo di un momento di angoscia che si è risolto perché gesù è più potente delle furie marine no è la storia della fede questo è un paradigma della fede allora vediamo un pochino come si può leggere tutto questo testo in questa chiave in quel giorno venuta la sera ecco è la sera la notte che è il momento in cui ci si muove di meno la sera è il momento dell'enigma il momento del buio la mancanza dei punti di riferimento non dobbiamo pensare le nostre serate dove la gente si scatena perché abbiamo tutti gli ammenicoli della tecnologia umana per cui abbiamo la luce per cui non c'è mai buio vero per cui in città non si possono vedere le stelle perché c'è troppo bagliore troppo riverbero ecco il punto è che a quel tempo il buio era proprio buio e quindi di sera ci si fermava ecco venuta la sera gesù disse i suoi discepoli passiamo all'altra riva ecco questa è una frase strana perché perché di fatto attraversare il lago di tiberiade di notte è pericoloso perché il lago di tiberiade è frequentemente soggetto a tempeste all'interno del suo bacino soprattutto verso il centro del bacino per un vento che è tipico è una corrente che incanalata dalle montagne che si aprono sul sul lago tende verso il sud e ha una efficacia tragica questa corrente arriva nel tardo pomeriggio e si scatena la notte per questo in un altro testo parallelo addirittura gesù costringe i discepoli a passare all'altra riva ecco però questa cosa qui parte da questo discorso passiamo all'altra riva e questa frase ha tutta un'altra caratura in effetti l'altra riva è quella raggiunta dal popolo quando uscendo dall'egitto passato il mar rosso raggiunse l'altra riva cosa che gli egiziani non poterono fare la drammatica notte del mar rosso è la notte paradigmatica dell'avventura della fede andare all'oltre entrare nella libertà uscire dalla tenebra uscire dall'oppressione dalla schiavitù vuol dire passare all'altra riva e questo è il passaggio della fede la fede ci fa passare all'altra riva molte volte in molte situazioni pur restando fermi all'interno di un dolore all'interno di una angoscia all'interno di una situazione risolvibile e non alla nostra portata noi possiamo passare all'altra riva passare dalla parte di dio ecco gesù congeda la folla e dice lo presero con sé così com'era nella barca e diventano interpreti principali i discepoli a questo punto questa cosa cercano di farla loro gestendo la loro lo prendono loro come fosse una cosa così com'era nella barca c'erano anche altre barche e si scatena la tempesta perché si scatena questa tempesta perché c'è la tempesta nella vita perché c'è sempre dobbiamo pensare per esempio alla fine del discorso della montagna quando gesù dice l'uomo che saggio ascolta la mia parole la mette in pratica come un uomo che costruisce sulla roccia stralipano i fiumi soffiano i venti si abbattono sulla casa e la casa non cade e poi c'è il contrario con l'uomo stolto che costruisce sulla sabbia e succede la stessa cosa c'è sempre la tempesta nella vita quello che è successo però che hanno fatto questa cosa lo hanno preso loro perché molto spesso noi amiamo rendere gesù un dio tascabile cioè a portata di mano ce lo mettiamo in tasca e lo gestiamo noi lo portiamo noi e lo prendono e a quel punto che succede che noi non siamo più capaci di vincere le tempeste perché siamo basati sulla nostra gestione di cristo e lui sta lì che dorme lui sta lì che sembra completamente inutile e infatti è diventato inutile perché lo abbiamo manipolato noi lo abbiamo preso noi dobbiamo fare questa esperienza passare alla fede passare da un rapporto strumentale con dio a un rapporto di fiducia e di abbandono allora lo svegliano gli dicono maestro non ti importa che siamo perduti ecco è diventato importante cosa importa a gesù allora quel che conta è cosa importa a lui cioè la sua volontà il suo desiderio la sua idea delle cose a quel punto gesù torna nella condizione del signore quale lui è minaccia il vento e dice al mare taci calmati che è la stessa parola che dice negli esorcismi perché in queste forze della natura c'è tutta una dimensione soggiacente di mondanità è il mondo che entra nella barca che entra nella chiesa che porta la chiesa a non essere capace di compiere il suo viaggio e doversi adeguare alla mentalità del mondo e allora il signore deve esercitare la sua signoria ecco qual è il punto che questa è la storia della fede quando nelle tempeste che accadono molto spesso nella nostra vita smettiamo di usare dio iniziamo a fidarci di lui e iniziamo a pregare e a consegnarci nelle sue mani quel grido dei discepoli quella supplica dei discepoli è la nostra povera supplica di uomini e donne confusi pasticcioni che partono per le opere cristiane poi le fanno in una maniera mediocre che le fanno come sembra loro e devono scoprire che si devono rimettere nelle mani del signore ecco chi è costui termina il vangelo che anche il vento e il mare gli obbediscano è il signore chi può mai obbedire il vento il mare ecco la fede è un'esperienza di dio nella tempesta infatti la prima lettura anche parlerà nel libro di jobbe di questa potenza di dio che risponde a jobbe in mezzo all'uragano giù jobbe è un uomo che vive una grande sofferenza ma questa sofferenza è una tempesta in cui incontrerà dio ecco la fede è questo quando noi all'interno delle nostre povere confusioni all'interno delle nostre tribolazioni passiamo all'altra riva perché smettiamo di essere al volante guidando anche lo stesso gesù e lasciamo a lui la guida il timone della nostra barca questo vale singolarmente comunitariamente ecclesialmente e anche tutta l'umanità può attraversare ogni tempesta se si consegna nelle mani del padre